benvenuti al santo del giorno 21 settembre festa di san matteo apostolo ed evangelista matteo significa dono di dio sicuramente il nome originario era levi e però cambiando le dà la missione lui si prendeva le tasse era una specie di collaborazionista per gli oppressori per i romani considerato un peccatore pubblico ecco perché veniva marginato era molto preparato ma aveva una molto buona posizione economica però era disprezzato dai suoi confratelli passa uno il signore e le disse seguime impressionante perché lui lasciandolo tutto 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 organizza un banchetto e segue il signore che cosa è successo in questo banchetto ha chiamato ad altri come i suoi pubblicani che cosa le avrà detto venite venite da me perché c'è uno che non ci sta giudicando il maestro vuole mangiare con noi per quello ha provocato la mormorazione dei moralisti perché dicevano e come mai questo che se si dice un maestro e si siede a tavola con i peccatori e i pubblicani impressionante ecco perché lui ha scritto in ebraico il vangelo perché era diretto ai suoi confratelli secondo la tradizione lui ha predicato ma anche stato martirizzato in etiopia perché perché giustamente predicando questo a il re il successore meglio di un amico suo il re di etiopia aveva una figlia però questa figlia aveva fatto il voto di verginità e lo zio se la voleva prendere come moglie e le chiese a matteo di convincere come poteva convincere lui le ha incoraggiato a sostenere questo tesoro della castità e la verginità così che è stato trafitto a spada per lui perché la la nipote non l'ha accettato come tale fratelli che bello è considerare a questo che è il primo vangelo dei quattro anche se storicamente è il secondo perché il primo sarebbe quello di marco e l'annuncio è potente lui ha sperimentato che era un peccatore pubblico ma che è stato uno che lo ha amato così com'è che non lo ha giudicato e ha annunciato questo e questo è quello che l'invito che noi abbiamo come cristiani no non giudicare ma annunciare sempre la verità perché c'è uno che ci ama san matteo prega per